Ciao a tutti, siete Giochi con Dana e oggi stavo guardando i miei nuovi libri dei Me Contro Te. Prima di tutto io ho questo, il Me Contro Te poster, poi ho i due libri dei Me Contro Te, il numero uno e il numero due. E ora guardiamo il poster e il test. Iniziamo. Qui si può sapere che trota sei, qui c'è il gioco delle parole dove devi trovare delle parole. Qui c'è il poster che ora lo stacchiamo. Ecco qui ci sono i sticker del poster. E ora vi faccio vedere il poster. E qui c'è l'altra parte e questo poster lo attaccherò sul muro della mia cameretta. E ora vediamo dove si attaccano di questi più di cento sticker. Qui sembra che c'è ancora un altro poster. Togliamo gli sticker. No, queste sono delle pagine. Oh, hanno portato il cibo. E siamo in un ristorante vegetariano. Andiamo avanti. Qui c'è un altro poster. Qui ci sono lui e Sofì. Poi da questa parte c'è cosa fai lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Poi c'è il poster dei selfie. E qui c'è la bacchetta dei Me Contro Te. E sono finiti i poster. Qui nell'ultima pagina e anche nella prima, che si deve staccare questo. Poi si ritagliano le cose che ci sono. Possiamo fare delle maschere. Quindi abbiamo finito con il nostro poster e test. E andiamo con il libro. Mi hanno portato il cibo. Quindi ora mangio e poi andiamo avanti. E ho due libri dei Me Contro Te. Il primo e il secondo. E del primo libro l'ho già fatto il video. E se volete lo potete andare a vedere. E ora guardiamo il secondo. Il fantalibro dei Me Contro Te entra nel mondo di Louis e Sophie. Allora, qui c'è la morning routine. Ora vi leggo tutto. A che ora ti svegli nei giorni di scuola? Io mi sveglio alle 7.30. Poi, quando stai nel letto dopo che la sveglia è suonata? A me non suona la sveglia, ma mi svegliano i miei genitori. Oppure mi sveglio da sola. E dormo ancora. Cos'è la prima cosa che fai quando ti alzi? Vado in bagno. Scrivi di seguito cosa mangio a colazione. Biscotti con latte. Poi, ti ricordi sempre di lavarti i denti? No. Poi, a che ora esci da casa per andare a scuola? Esco alle 8 e 5. Con chi vai? Io vado con mio papà e mia sorella. Poi, a piedi in macchina o con i mezzi in macchina. Arrivi spesso in ritardo. Beh, quasi sempre in orario. Poi, che scusa usi con la maestra? Dico che c'era traffico. Poi, qui devo prendere dell'erba, sporcare questa pagina di erba e soffinandola su un bel prato. Qui c'è una canzoncina che a me piace tantissimo, che devo trovare gli errori, che io lo voglio imparare a memoria. Devo trovare tre errori. Qui io ho messo un bigliettino perché voglio vedere questa pagina. Parlo della mia cameretta. E qui parla che lui prima aveva la camera. Non era decorata, era una semplice camera. E ora l'avevo decorata. E qui bisognava scrivere come è la mia camera e disegnarla. Io ho scritto, la mia cameretta è semplice ma ho il letto a castello e dei giochi bellissimi. Però non ho fatto ancora il disegno. Ci sono anche altre bellissime pagine che io non ho ancora visto. Ecco, ci hanno portato il dessert con il regalo di provare queste, che non so cosa sono. Ci sono tante cose interessanti che si possono leggere. Potrebbe anche essere un libro di lettura. E allora ciao a tutti, iscrivetevi al mio canale e spero che questo video vi sia piaciuto. E mettete un like. Ciao! Volevo capire cosa sono. Volevo capire cosa sono. Volevo capire cosa sono.